E ciao a you e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926 Per prima cosa iscriviti al canale è gratis Napoli Perona 1 a 1 Non vi preoccupate non ero scappato Ero al lavoro come avete potuto vedere Non ho nemmeno fatto uno short per farvi Per dire la mia sulla partita di ieri sera Comunque andiamo con calma Allora Cosa vi ho detto io nel video dell'altro giorno Il Napoli deve stare attento al Verona Nei primi 20-25 minuti Perché come già successo con il Milan Con la Lazio Con la Juventus Attacca a pieno organico Cos'è successo sul vantaggio del Verona? Hanno attaccato Mario Rui Fa la cappellata di non seguire più il loro attaccante Cosa succede? Cross nel mezzo Rachmani si fa intercettare in modo ingenuo Perché quello è un modo di difendere Che io non comprenderò mai Se tu l'attaccante ce l'hai dietro Apri il braccio e dietro non può venire in avanti Si fa anticipare Non apri il piede sinistro E il Verona passa in vantaggio Ma lì ci sono tante cose da vedere C'è da vedere la posizione di Mario Rui Che poi non segue l'attaccante E c'è proprio la posizione di Sia di Rachmani Sia di Juan Jesus Che secondo me non gli chiama il difensore Dietro di lui L'attaccante dietro di lui E il Verona passa in vantaggio Tutto questo successo a che minuto? Al minuto 12 Ma bene I famosi 20 minuti che io vi ho detto Nell'altro Dell'altro giorno Questo è Io vi ho detto Difendiamo i primi 20 minuti 20-25 minuti Poi il Verona naturalmente Cala di intensità Perché non può fare i 90 minuti Con quell'intensità lì Era normalissimo ragazzi Così è stato Il Verona si è abbassato Il Napoli è riuscito ad attaccare E poi a trovare il pareggio con Di Lorenzo Poi Se vogliamo parlare di sfiga C'è stata tanta sfiga Anche nel Napoli ragazzi Di Insigne Che nel primo tempo Fa un tiro della Madonna Il portiere del Verona Fa un miracolo assoluto Perché quello è un miracolo ragazzi Nemmeno da dire Ha sbagliato Insigne E il tiro no Insigne ha fatto un super tiro Di sinistro addirittura E quindi ragazzi Lì Cosa vuoi dire? Quando vedi che quello non entra Osimè anche piglia un palco clamoroso Perché fa una giocata clamorosa Che si ingira in un fazzole La piazza di sinistro E la palla bacia il palo Nemmeno dici Vabbè Va sui piedi di qualche attaccante Del Napoli Di qualche esterno Di qualche centrocampista No La palla va fuori C'è Va fuori dalla portata Di tutti quegli altri giocatori È un po' di sfiga Ce l'abbiamo anche noi Poi il secondo tempo Mentre Mertens E prende il palo Cioè Ci sono state tante cose Però la cosa che mi ha fatto più rabbia È l'arbitraggio ragazzi Una cosa scandalosa Ora non mi voglio attaccare all'arbitre Perché lo sappiamo Poi venite qui sotto E dite Ma voi vi lamentate degli arbitri Vanno regalati i rigori Sì Va bene tutto Per oggi Ammunizioni inesistenti Io non so Anche l'ammunizione a Kalinic Io Per me non era mai ammunizione È un fallo di reazione Ma Mario Luro stuzzica E quindi Kalinic Allarga un pochino il braccio E lo tocca Quello non è da dare giallo Quello era da far continuare Punto e basta Poi Il doppio giallo Al centrocampista Ora non mi ricordo Chi era del Dell'Ellas Ci sta Perché Pesta proprio il piede A Elmas Si vede Quindi è giusto Dagli la seconda ammunizione Ma nel primo tempo Ne ha combinati tanti L'arbitro ragazzi Palla al Napoli Vantaggio No Poi ci ripensava Era fallo Cioè Cose assurde Ha fischiato dei falli Ad Usimena Inesistenti I famosi ponti Quando il difensore Ti salta addosso E tu fai il movimento Per spostarti O ti abbassi Erano inesistenti Usimena è sempre stato fermo Al massimo Ha spostato un pochino La spalla Ma niente di che Niente di che Viene ammonito addirittura Usimena Per protesti Che poi proteste Usimena non è che Manda a fangulo l'arbitro Usimena fa così Ma si arrabbia con se stesso Più che altro Perché Ha avuto l'occasione Per portare il Napoli In vantaggio E non ci è riuscito Ma parliamo un po' Nello specifico Della partita Juan Jesus Ha giocato una buona partita Rachmani Sì Ha fatto L'unica cappellata Che ha fatto È stata sul Gol Di Simeone Simeone Che mortacci sua Quando vede le big Si diventa Dio sceso in terra Io non so Questo che cazzo Ora vi faccio vedere La prossima big Quando lo giocherà Con il Verona Da qui Alla prossima big Simeone Massimo farà 1-2 gol Ve lo dico io Fidatevi Detto questo La linea difensiva Perché se si rompe Di Lorenzo Noi stiamo nella cacca Ragazzi Siamo nella cacca Detto questo Di Lorenzo Che poi Ha fatto anche Un bel gol Perché l'ha piazzato Sotto le gambe Del portiere Tanta tanta roba I gol di Di Lorenzo A centrocampo Fabian Ha sbagliato Di versi appoggi Va bene Quindi Fabian Non me lo sento Di elogiarlo In questo marasma Di che è stata Questa partita Anghissà Anghissà ragazzi Lo sappiamo Anghissà è stato Forse il migliore Al centrocampo Ma forse Indubbiamente È stato lui Mediano il migliore E per il reparto Offensivo Cosimène Ci ha provato In tutti i modi A segnare La sfortuna E forse C'era un rigore Perché Un rigore Ci poteva stare Nel secondo tempo Perché se andiamo A vedere nel dettaglio Va bene C'è il difensore Gunter Chi cavolo era Che tocca Con il polpaccio Il ginocchio Di Osimène E ne hanno fischiati Parecchi Brutti Inesistenti Oggi A Venezia Ieri Ragazzi Hanno fischiato Un rigore Per il Venezia Clamoroso Che è quello Secondo me Non c'è mai Comunque Detto questo In sindia Ha giocato una buona partita Io non ho visto Nel dettaglio Ma mi sa che in sindia Si è arrabbiato Questa volta Per la sostituzione Lorenzo Lorenzo mio Forse sei un po' agitato Per le parole Dette da Aurelio De Laurentiis Ma ti comprendo Ti comprendo Perché oggi Volevi dimostrare D'Aurelio De Laurentiis Che deve stare zitto Aurelio De Laurentiis È quella persona Che mette Zizzagna E se non c'è Zizzagna La mette De Laurentiis Perché lui Non può stare Senza vedere Soffrire I tifosi del Napoli Lui ci gode Secondo me A vedere Questa cosa Detto questo Chiuso il discorso Insigne Dall'altra parte C'era Politano Io avrei optato Per Zinischi Io non so Perché ha messo Politano Politano che ha fatto Anche una buona partita Ma è una partita Da cinque e mezzo Sei Se vogliamo parlare Lozano poi è entrato Ma non è che ha fatto Chissà che grandi cose Detto questo Poi Osimeno Come già detto Un sei e mezzo Sette Glielo diamo Per la fiducia E poi Entra Mertens E Mertens Prende il palo Cioè Un Napoli Fra la sfiga Perché poi la sfiga C'è voluta Fra l'arbitro E fra Spalletti Che forse ha sbagliato Qualcosina Questa è la prima volta Che mi sento Di dire Spalletti Ha sbagliato Perché Secondo me Poteva tenere in campo Sia Osimeno E levare Anghissà O levi Anghissà O levi un Fabian Ruiz O levi un Elmas Ma devi mettere Un'altra punta Butti con il 4 Il 3-4 Non lo so Inventa di qualche schema Va bene Ma butta 4 attaccanti Lì davanti E tenta il tutto per tutto Tanto mancava pochissimi minuti A parte che Su Sky Dava 6 minuti di recupero L'arbitro ha fischiato Dal 95esimo Ora questa cosa Non l'ho ben capita Se ha sbagliato Sky O ha sbagliato l'arbitro Sta cosa Non l'ho ben capita Comunque Al finale del primo tempo C'è stato un bel litigio Fra Luciano Spalletti E Tudor Il Verona con Tudor Sta facendo benissimo E quindi faccio i complimenti Al Verona Il Verona che ha fatto 16 punti Da quando è arrivato Tudor Meglio di Tudor Meglio del Verona Solo del Napoli E del Milan ragazzi E nemmeno l'Inter Ha tenuto il passo Del Verona In questo momento E quindi Vi faccio veramente I complimenti a Tudor Però Non ho ben capito Cosa è successo A fine del primo tempo In un altro posto I miei Napoli Spalletti l'hanno diviso Con lo staff C'è una cosa allucinante Queste cose a me Non piacciono Ma non mi piacciono Nemmeno quelle simulazioni Che fanno Sia i giocatori Del Napoli Ma tutti in Serie A Ti toccano Si buttano in terra Sembra stiano Morendo E' una cosa che io Non apprezzo Non apprezzo Poi ci diciamo Come mai in Inghilterra Le squadre inglesi Ci battono sempre Perché le squadre inglesi Non stanno a guardare Che quello si butta In terra Gli arbitri inglesi Ragazzi Fanno giocare Quello che non ha fatto Ieri sera l'albitro E' una cosa scandalosa A Roma ci manca il rigore Stasera ci manca per rigore Questo è l'unico modo Per fermare il Napoli Non dare i rigori solari Che ci sono C'è Il VAR A cosa serve Va bene Il check del VAR Non è stato fatto Sul fallo di Suosimel Non è stato fatto Nessun Contatto C'è Io la scritta Control check Rigore Penalti Come cazzo Lo volete chiamare voi Non c'è stato E questa cosa A me dà fastidio Abbiamo il VAR Abbiamo creato A Coverciano La sala VAR Dove saranno Tutti lì dentro Dove sono? Dove? Perché il VAR Non viene usato In tutte le situazioni? E' questo che io non riesco A comprendere Dal calcio italiano Questo è l'unico modo Per fermare il Napoli Ragazzi E c'è da dirlo Perché ora Nelle prossime 5 Tu hai Inter Lazio Atalanta Sassuolo Empoli Non è che c'è le squadrette Va bene Però stasera il Napoli Porta a casa Ieri sera Scusatemi Il Napoli porta a casa Un punto Che nella classifica Non fa perdere punti Su Inter e Milan Per chi hanno pareggiato Nel derby Va bene Però Aurelio De Laurentiis Si faccia sentire Con la FIGC No Con Lorenzo Insigne Sempre e comunque Forza Napoli Dal vostro Neapolis 1926 Ciao a you